Ne è passato di tempo dall'ultimo video e è vero non mi sono comportato bene nei vostri confronti ma mi sono promesso a me stesso che sarei tornato a fare video su youtube nel momento in cui avrei avuto delle cose belle e fighe da dire quindi per questo motivo ho smesso di fare un video al giorno perché negli ultimi mesi i video erano diventati un po' monotoni sono successe tantissime cose in questi mesi ma come avete letto dal titolo non è l'argomento principale di questo video quindi ci vediamo sicuramente da qualche settimana adesso vi lascio nella parte più interessante di questo video infatti parleremo di come è possibile lavorare in un'azienda di gaming nel 2022 e quindi facciamoci questa bella chiacchierata con Riccardo Russo eccoci qui ragazzi siamo in compagnia di Riccardo Russo una persona che mi ha contattato qualche mese fa su LinkedIn che lavora nell'industria del mondo dei videogiochi e ha detto facciamo assolutamente un contenuto insieme perché secondo me possiamo portare insieme del valore aggiunto a quello che è poi l'industria di videogiochi in generale specialmente in Italia perché come sapete so sempre che vi interessa tantissimo sapere come si lavora nel mondo dei videogiochi specialmente in quest'ultima era e infatti l'avete letto dal titolo Ric presentati subito cosa fai cosa non fai dove sei perché voi non lo sapete ma lui non è proprio in Italia quindi adesso si racconta un po' No sono un po' lontano al momento sono in Cina e vabbè grazie mille per ospitarmi sul tuo canale e sì insomma io è da più o meno 18 mesi che sto lavorando per un'azienda che si chiama Yodo One e Yodo One è un publisher su Radio Stampede, Crossy Road, Transformer Air Force abbiamo lavorato su un bel po' di giochi principalmente mobile e sì sto vivendo quest'avventura ormai da 18 mesi e che dire ogni giorno è un bel roller post devo essere onesto Ma come ci sei arrivato specialmente in Cina? Come ci sei arrivato? Eh bella domanda interessante la primissima volta che sono andato in Cina è stata con mia mamma in viaggio e mi ha detto Riccardo siamo all'ultimo anno di liceo hai la maturità tra poco dobbiamo fare qualcosa di pazzo e quindi mi ha portato in Cina con lei e da lì è iniziato un po' questo interesse per questo mondo qui e quindi per più o meno tutta la mia vita da studente sono venuto qua in and out con vari corsi studio, borse di studio e quant'altro e alla fine sì è stata un po' una cosa pazza perché io sono stato in Italia durante la pandemia e poi ho trovato questa azienda Yodo One che mi ha assunto da remoto ed è una realtà del gaming ad ogni modo molte aziende stanno ormai passando a un modello lavorativo dove tu lavori da remoto Però tu preferisci comunque rimanere lì in Cina? Preferisci comunque? Sì io in questo momento volevo avere un'esperienza di vita e quindi ho deciso di restare qua anche se devo dire che al momento con tutte queste restazioni covid che ci hanno qua non consiglio a nessuno di partire in questo momento dovete avere lo stomaco molto forte in questo momento per venire qua E ne approfitto per chiederti appunto di farti subito una domanda Quali difficoltà incontro durante il percorso per andare a lavorare appunto in una realtà di gaming come Yodo One? E comunque poi ragazzi lascio tutte le info in descrizione del sito, di Riccardo, la sua mail quindi potete chiedergli, potete rompergli le palle senza nessun problema Assolutamente, sì 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 è per questo che stiamo facendo questo video Ma guarda, le difficoltà è più o meno saper parlare il lingo della industry quindi tu arrivi il tuo primo giorno, sei davanti al tuo laptop hai colleghi da 30 paesi diversi che ti parlano di cose di cui tu non hai mai sentito nominare io sono sempre stato un appassionato di gaming diciamo come qualunque persona che può vedere questo video è nel senso mi interessa l'industria, giocavo ai giochi però non avevo mai considerato ad essere onesto con te una carriera nel gaming però in questo momento è una industria che sta crescendo che dà molta opportunità e quindi ci sono tante persone che si ritrovano come me un po' per caso a lavorare nella industry e sì la cosa principale, mi senti? Sì sì ti sento, ti sento Ok, quindi la cosa principale è stata adattarsi a questo modello lavorativo nuovo dove devi parlare con 30 paesi diversi e devi anche saperti adattare a diversi stili comunicativi delle persone questo per noi che siamo nati e cresciuti in Italia può rappresentare un ostacolo non indifferente di cui bisogna essere consapevoli e lavorare ogni giorno su te stesso essere un leader di te stesso è molto importante in modo da poter collaborare al meglio con i tuoi colleghi e ti chiedo subito una cosa perché non l'abbiamo effettivamente detto ad inizio video che ruolo hai dentro Yodow One attualmente? Assolutamente quindi io mi occupo del marketing della nostra piattaforma di monetizzazione che si chiama Mass e praticamente è la nostra missione aiutare i piccoli creatori di videogiochi i piccoli e medi creatori di videogiochi a trasformare il loro gioco in un vero e proprio business e questa è una grande criticità che vediamo esatto, come monetizzare la tua passione questo è molto importante ed è una cosa che noi notiamo specialmente in questi sviluppatori che vediamo dei giochi bellissimi hanno un sacco di talento e poi però è molto molto importante ragazzi sapere fin dall'inizio dove si vuole arrivare ti faccio un esempio abbiamo parlato recentemente con uno sviluppatore che ha fatto un gioco che si chiama Animal Revolt Battle Simulator ed è questo gioco sandbox dove praticamente tu crei i tuoi dinosauri, i tuoi mostri e lui ci spiegava proprio come lui prima ancora di fare il gioco ha fatto un sacco di ricerca per capire quale tipo di gioco poteva diventare successo e questa è una cosa che si fa spesso al contrario si ha un'idea, si parte con il gioco e poi si cerca di capire come monetizzarlo che può andare bene se è la tua primissima esperienza come sviluppatore ma quando poi vuoi arrivare a un livello un pochino più alto devi iniziare a pensare al contrario devi capire fin dall'inizio come puoi monetizzare il tuo gioco specialmente in questa fase in cui ci sono veramente tantissimi giochi di qualsiasi genere quello che dicevo ai ragazzi già un paio di anni fa era che comunque quando si vogliono fare videogiochi anche per monetizzare quindi per guadagnare devi avere un'idea di quello che manca ora è anche vero che non manca niente però in generale fare una strategia dietro dato che comunque stiamo andando a investire del tempo per realizzare un videogioco sicuramente chiudersi prima di programmare a pensare a un videogioco sicuramente è una fase molto molto figa e che tipi di videogiochi interessano aiuto one cioè nel senso io la piattaforma credo che permetta agli sviluppatori di poter monetizzare con i propri videogiochi stiamo parlando comunque di app store quindi google play e app store giusto? oppure andiamo anche per steam o no? solo mobile? noi siamo essenzialmente mobile noi siamo mobile per dieci anni abbiamo fatto mobile e crediamo che quello sia ancora il segmento più interessante certo e che tipi di gioco interessano? cioè hai visto per caso un trend? perché per molto in questi ultimi mesi si è parlato molto di questi che a me io odio totalmente perché il loro modello di business poi è a db totale che questi hyper casual games però io reputo che oggi con i videogiochi si possono si può monetizzare diciamo non solo in questo genere di giochi ma anche con tanti altri giochi anche più artistici e così via assolutamente assolutamente tu che lavori nell'industria sicuramente anche molto più di me perché i videogiochi li vedi più di me e aiuto one comunque nella realtà dove attualmente sei come vedi? che tipi di giochi secondo te interessano? allora ti dico come dici te in questo momento c'è un massacro di hyper casual e penso che se volete andare nell'hyper casual buona fortuna ma dovete essere velocissimi perché poi insomma nasce e muore e ci vogliono anche tanti soldi per spingerlo assolutamente assolutamente perché bisogna spingerlo come dei matti all'inizio no noi abbiamo un approccio diverso quindi un gioco come Rodeo Stampede è da sei anni che continua a essere al top delle charts e quindi la nostra filosofia è cercare di prendere un gioco e noi abbiamo bisogno di qualcosa che sia speciale di questo gioco bisogna che ci sia un qualche elemento unico che lo rende appetibile a un giocatore e poi il nostro approccio è quello di prendere questi giochi e crescerci insieme quindi noi ogni volta che pubblichiamo un videogioco facciamo anche mobile game publishing oltre a monetization quindi è tutto un ecosistema che stiamo cercando di creare e no il nostro approccio è noi mettiamo un team dedicato a questi giochi e cerchiamo di farli crescere nel tempo poi ovviamente pensiamo che questo tipo di approccio sia ovviamente da publisher avrete una revenue avrete una percentuale su quelli che sono poi i guadagni dello sviluppatore quindi anche il deal tra sviluppatore e publisher ha sempre dei componenti diversi e ogni magari sviluppatore preferisce magari non so continuare a sviluppare tutti gli aggiornamenti di lui o lei stessa oppure a volte ci dà tutto in gestione a noi questo dipende però sì come funziona è che sia una revenue share tra Yodouan e lo sviluppatore e in questo modo diciamo si cresce insieme nel tempo però però quello che l'avviso che do sono due qualcosa di speciale cioè portate qualche innovazione nel nostro gioco prendete qualcosa che funziona e portate delle innovazioni e poi nel secondo nel secondo punto bisogna fare in modo che la vostra monetizzazione sia già pronta se si ha un tutti i publisher guardano una method principalmente che è revenue per install RPI e se quella lì non va bene è molto difficile avere un publishing deal quindi se voi lavorate fin dall'inizio sulla monetizzazione e poi migliorate piano piano quello è una cosa che al publisher piace molto perché poi ci sono un sacco di possibilità di crescita ma infatti oggi quello che succede io poi faccio B2B quindi il mercato è diverso però comunque so sempre un po' nell'ambiente ascolto sempre diciamo le opinioni di quello che fanno gli altri ragazzi che lavorano nel mondo del B2C quindi comunque che fanno videogiochi sull'App Store e Play Store che oggi il publisher ha cambiato anche un po' il ruolo diciamo che anni fa magari investiva sul progetto anche quando valeva a zero oggi invece deve avere già un prodotto ben pronto che comunque già faccia vedere che funziona in modo tale che il publisher mette quella spinta necessaria per far decollare diciamo che se prima dovevi costruire un razzo cioè avevi bisogno dei soldi per costruire un razzo oggi di avere un razzo pronto che è pronto a decollare e il publisher gli mette un po' il carburante diciamo esatto esatto perché poi la verità è che essendoci milioni di videogiochi negli store mentre dieci anni fa era molto diverso bisogna essere un po' diciamo in grado di di essere avanti a tutta la competition che si può avere sicuramente dei giochi che sono già pronti rappresentano meno un rischio dal lato di un'azienda che fa publishing ed è quello che dico quando vai 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 scusami no 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 figurati quindi quello che dico è non non costruite un gioco e poi state impazienti dal dal primo giorno dire ok devo trovare un publisher devo trovare un publisher no arrivate al publisher quando siete pronti e quando siete pronti vi assicuro che se il vostro gioco ha del potenziale i publisher cercano dei giochi con potenziale quindi la chiacchierata poi è molto più facile da farsi quando il gioco è un po' più pronto ma infatti l'errore che si fa è quello di realizzare dei videogiochi di cui tu già in partenza hai bisogno di soldi per farlo no ed è quello mettetevi nei panni di un publisher diciamo oggi se ha la possibilità di investire no 100 in un gioco che vale 0 e 100 in un gioco che comunque già vale 50 e che ha potenzialità di crescita è ovvio che la scelta è la seconda quindi molte volte quando già ideate un videogioco ideatelo sulla base delle vostre disponibilità sia se siete un team sia se siete dei ragazzi da soli perché comunque anche diciamo il tempo lo ha dimostrato che anche monodeveloper quindi comunque solo developer anzi hanno comunque potuto fare dei prodotti che alla fine hanno funzionato anche bene quindi sicuramente questo è il consiglio poi mi hai detto prima di iniziare questa call mi hai detto facciamo una mezza call to action a metà video dove parliamo del fatto che comunque dentro di O2One ci sono delle possibilità di lavorare o sbaglio ti lascio la parola a te su questo aspetto assolutamente sì sì quindi noi una cosa che cerchiamo un ruolo che cerchiamo sempre è il cosiddetto games growth specialist cioè una delle persone che ci aiutano a parlare con sviluppatori di tutto il mondo e che ci aiutano a fare capire come possiamo lavorare insieme specialmente su Max quindi penso che Samu lascerà il link qui in descrizione e la mia mail quindi se siete interessati è un ruolo specialmente adatto a chi ha voglia di parlare con tanti sviluppatori in giro per il mondo giocare tutti i loro giochi e anche guadagnare nel frattempo quindi è un po' come Willy Wonka nella fabbrica di cioccolato invece che mangiare il cioccolato è anche un'occasione per imparare sicuramente è un'occasione per migliorare è un'occasione per vedere gli altri sviluppatori come lavorano per vedere altri giochi quindi comunque è un modo per iniziare a lavorare nell'ambiente assolutamente assolutamente e ti chiedo un'altra cosa io poi qui a sinistra ho le domande quindi per questo ogni tanto guardo a destra da sinistra perché ragazzi ho mille videocamere come sapete quindi c'ho la webcam che incollo poi la videocamera quindi vedete i miei occhi sono molto geloso del tuo setup in questo momento essendo un digital nomad sono sempre accampato nei posti più improbabili fai bene fai bene ma non preoccuparti quali sono i trend che stai osservando oggi nella gaming industry nel 2022 e oltre quindi comunque ormai parliamo anche di 2023 dato che superato agosto l'anno è finito assolutamente beh adesso siamo abbiamo superato i 200 miliardi della gaming industry in generale quindi più di Hollywood più di qualunque altro tipo di forma di entertainment che si possa conoscere quindi gli investitori e le possibilità ci sono tutte le cose da tenere in considerazione sono due principalmente c'è stata una 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 si dice in inglese scusate ogni tanto c'ho cinese inglese italiano così mi stanno tutti un bel bel macello quindi tanti investimenti e tante acquisizioni tante tanti mergers tra aziende diverse quindi questo è stato un trend che continua nel 2022 quindi di grandi studio di grandi aziende che acquisiscono gaming perché devono avere una presenza guardate Microsoft Activision insomma ci sono migliaia di esempi che è anche un po' nel lungo adesso no però i ragazzi sanno anche se non ne ho parlato ancora un po' l'obiettivo nostro nel senso magari tra qualche anno qualcuno vuole comprare la nostra realtà sì sono sicuro che tra qualche anno te Sam o qualcuno della tua community lo vedremo sui titoli del sol 24 ore come come il prossimo fenomeno italiano sicuramente sarà del gaming perché gaming ormai è pervasivo in tutto quello che facciamo quindi parliamo di ovviamente vabbè meta vs web 3 non lo menziono neanche perché è l'hot topic di qualunque conferenza gaming a cui si sta andando quest'anno in generale penso che c'è voglia di novità di innovazione l'industria più o meno specialmente sul mobile il modo in cui si è monetizzato e il modo in cui si è sviluppato giochi negli ultimi anni diciamo è stato più o meno stabile non ci sono stati grandissimi cambiamenti però adesso con 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 l'nft con 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 blockchain con i brand che piano piano stanno entrando in questo mondo sempre più prepotentemente secondo me vedremo tante nuove cose accadere nei prossimi due anni e un po' rompere questo modello a cui diciamo stiamo partecipando in questo momento quello che secondo me succederà a breve un po' che un po' sta arrivando anche nel mercato fuori del gaming insieme al mondo dello sport in generale secondo me aspettiamo un po' che i big player come microsoft sony google o apple iniziano un po' ad aprirsi nel senso che a implementare nft parlai di blockchain parlai di web3 secondo me succederà una volta che i big player diciamo decidono un po' di fare robe di questo genere anche il mercato un po' ne risentirà nel senso che cambieranno ci sarà possibilità anche di fare nuove cose perché quello che ho notato io almeno da videogiocatore comunque siamo un po' in una fase molto piatta nel senso che anche perché non ci sono nuovi oggi strumenti che permettono di innovare si pensava che forse era la realtà virtuale però comunque anche lì sta andando molto lentamente e non è entrata un po' nelle case di tutti però quello che alla fine i numeri dicono è che comunque ci sono tanti soldi dietro nel senso che comunque un'industria come abbiamo visto vale 200 miliardi e non sono assolutamente pochi mi sa che vale più del doppio dell'unione tra musica e cinema per due quindi appunto siamo sicuramente sicuramente ecco è in quella fase in cui secondo me bisogna iniziare un po' ad entrare e essere pronti poi a quelli che saranno i cambiamenti ma come lo è sempre stato la cosa sicuramente che vedo Samu è questa creator economy giusto questo concetto che come è stato con youtube e come è stato con tantissime altre piattaforme anche il gaming diventa un'opzione sempre più viable per accessibile per vivere esatto assolutamente assolutamente se prima fino a qualche anno bisognava essere una company oggi secondo me anche dalla tua stanzetta come lo è stato anche per me ora io ho fatto un'altra cosa però puoi iniziare a monetizzare quindi come è stato anche con youtube come con twitch quindi sicuramente questa cosa è un dato molto importante esistono dei tools che puoi fare dei videogiochi anche senza sapere niente di calling come non ne so niente io quindi quando iniziano ad esserci questa realtà capisci che c'è sempre più interesse nello sviluppare videogiochi quindi come adesso tu stai facendo questo video su youtube una persona tra 3-4 anni magari sviluppa il suo videogioco invece di fare il video su youtube questo è quello che in cui noi crediamo ora non so se tu sai sicuramente i miei ragazzi che hanno visto stanno vedendo questo video mi hanno un po' guardato dall'altra parte tu hai parlato di tool con cui non programmi io tutti i miei giochi li faccio con un tool che si chiama construct 3 dove effettivamente non scrivi codice quindi dimostrazione che alla fine puoi anche fare attenzione questo va va del retro va del retro molti sviluppatori sì no ma comunque non c'entra assolutamente niente il tool che usa l'importante è il risultato a cui arrivi infatti quindi questo è tutto quello che conta alla fine i tools ce ne sono tantissimi e ci si può sbizzarire penso che ognuno poi ha il suo preferito e niente non facciamo nomi non facciamo niente niente ovviamente una domanda che ho super a cuore perché io conosco i ragazzi che stanno vedendo questo video che troviamo ragazzi piccoli quindi di 10 15 14 anni ma troviamo anche ragazzi un po' più grandi nel senso che molte volte ci sono delle persone che magari sono stanche di fare quella vita e come magari trovi il 25enne il 30enne che si improvvisa youtuber e poi inizia a vivere diciamo con quello voglio chiederti a te comunque se nell'ambiente anche sicuramente molto più di me che comunque sei più in un mercato più accessibile forse più a tutti perché io faccio B2B che è diverso lì bisogna coprire altre aree e così via e che consigli dà a quelle persone che non hanno un background tecnico quindi sia tecnico che non quali sono i passi ovviamente sicuramente per quelli over 28 25 è diverso dai ragazzini però cosa consigli in generale beh innanzitutto continuate ad appassionarvi di questa industry quindi se state vedendo questo video siete nel posto giusto già bisogna un po' capire quello che sta accadendo a livello diciamo ma neanche troppo nello specifico sapere e capire quali sono i macro trend è molto importante perché alla fine il gaming è come qualunque altra industria in realtà non bisogna essere necessariamente degli sviluppatori per avere accesso a questa industria assolutamente io e un sacco di miei colleghi ne siamo l'esempio il mio consiglio è fin fin da quando potete iniziate a a scrivere alle aziende gaming iniziate a a mettervi in contatto con alcune persone potete farlo molto facilmente su linkedin ad esempio esatto e se avete bisogno di aiuto io sono assolutamente a disposizione sei sicuro che ti sto a freddo sei sicuro 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 posso nel senso so che sta per arrivare la mia rovina ma assolutamente e quindi sì iniziate a fare contatti e a cercare di fare delle chiacchierate a cercare di capire guardate dei webinar quando tu sei in un colloquio e riesci già a parlare la lingua della persona che ti ha di fronte questo è già un punto a favore pazzesco perché ci sono tante persone che cercano anche di entrare nelle industrie senza saperne proprio niente e visto che comunque i lavori ci sono e soprattutto ci sono da remoto quindi anche se voi siete a in una città provinciale italiana e dite cavolo ma io non riesco ad andare a lavorare a Los Angeles o qualunque altra città Austin non lo so ci sono tantissime città dove non è più necessario anche perché alle aziende fuori conviene perché non devono pagarvi il visto e quindi rimanete nel vostro paese a fare quello che esatto 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 quindi penso non ci sia niente di meglio voglio dare una serie di suggerimenti che ho detto anche durante il percorso che un po' si ripetono quello che ho già detto negli anni nei video che facevo su youtube per i ragazzi di 13-14 anni quello che consiglio è iniziare a fare i gioco iniziare a studiare soprattutto a parlare l'inglese che comunque ormai è una cosa super fondamentale non bisogna avere fretta questo lo sappiamo già perché comunque fare un videogioco è una cosa molto complessa quindi comunque neanche tanto nel senso che ci sono degli strumenti che ti facilitano però non è che fai un videogioco e inizi a vendere c'è uno studio maggiore però quello che dico è non dovete avere fretta di vedere subito i risultati ovviamente specialmente un ragazzo di 14-15 anni secondo me l'obiettivo è quello di imparare nel tempo e quindi di arrivare a 18-20 anni che già ha delle basi sicuramente super ottime mentre per chi invece è già un po' più grande quindi magari si sta lavorando durante la sua vita per appunto mantenersi così via di trovare diciamo la sua parte diciamo la sua non nicchia però di verticalizzarsi magari quindi o dipende anche qui in questi casi quindi di iniziare a nel tempo libero studiare a fare videogiochi a chiedere parere degli altri ovviamente poi ripeto il mondo dei videogiochi è molto grande un po' come youtube che tu puoi fare il video editor per qualcuno che puoi fare le copertine che puoi fare regia e così via nei videogiochi come puoi essere uno sviluppatore per un'azienda come puoi essere un modellatore come puoi anche avere tu una tua realtà quindi sicuramente ci sarebbero tante cose da dire ovviamente in questo video che non voglio che raggiunga un'ora e mezza però ecco sappiate che l'industria dei videogiochi è veramente molto grande i numeri sono a nostro favore che dimostrano effettivamente la possibilità di guadagnare sicuramente ci sono le realtà come la nostra che abbiamo realizzato quindi la realtà che fa videogiochi per altri quindi B2B stanno aumentando e quindi ovviamente si richiedono anche delle figure professionali che verticalizzate da portare in azienda l'Italia non è avantissima però come diceva Riccardo se si vuole lavorare per le per aziende estero per aziende comunque europee se sapete la lingua avete un bel portfoglio state studiando sicuramente le possibilità sono sempre di più quindi imparare l'inglese è importante quello l'hai detto te e quello è fondamentale quindi insieme a studiare i videogiochi studiate l'inglese e tanto vi serve a qualunque cosa nella vita quindi non ve ne pentite esatto esatto e la cosa che volevo un po' aggiungere anche diciamo chiacchierare con te per ritornare al discorso discorso di prima tu vedi per caso nel tuo dato che so che vedi tantissimi videogiochi qual è l'engine più utilizzato nel mercato mobile? beh sicuramente abbiamo ancora Unity come King indiscusso della stazione però devo dirti che negli ultimi tempi stanno entrando sempre più più player a diciamo cercare di incalzarlo un player che ho notato che si sta muovendo molto bene recentemente è Godot sicuramente tantissimo quindi quindi quelli sono quello è un engine da tenere d'occhio però si ripeto questi sono dei mezzi per arrivare ad un risultato quello che conta è poi il gioco che fate però si diciamo Unity è stata per tantissimo tempo diciamo l'engine l'engine scelto da tutti e adesso piano piano questo mercato si sta fragmentando sempre di più quindi quindi vediamo secondo me c'è spazio per due o tre player per essere diciamo non a livello di Unity ancora ma cercare di avvicinarsi piano piano questo è un altro trend che vedremo nel 2022 per chi vuole avvicinarsi ovviamente quello che consiglio io nel mondo nel mercato mobile quindi comunque play store e app store che comunque è diverso da quello che abbiamo sempre portato qui sul mio canale vedere Unity Godot è sicuramente un'ottima cosa perché ci sono mille di online mille corsi che la do di appagamento dove è possibile imparare come realizzare videogiochi con questi engine sicuramente quindi è una cosa sicuramente molto molto importante e positiva per tutti noi e niente io a dire è vero non ho tantissime altre domande perché poi le altre che avevo preparato diciamo che hanno un po' coperto tutto quello che abbiamo detto in generale quello che consiglio ai ragazzi poi aggiungiamo qualcosa altro Rick se c'è da aggiungere perché tanto voglio che sia una chiacchierata questa più che più che in intervista qualcosa del genere io do one sicuramente potrebbe essere un'occasione per i ragazzi studiarla valutarla per monetizzare appunto attraverso i propri videogiochi ricordiamoci sempre ragazzi che il publisher come l'abbiamo visto anni fa è diverso da come è adesso quindi molte volte vedo mi è successo recentemente di aver ricevuto delle mail di ragazzi che hanno fatto di kickstarter che non hanno ricevuto fondi oggi è difficile non che sia impossibile è molto difficile che oggi qualcuno dia dei soldi a voi per finire il nostro gioco nella maggior parte dei casi il publisher oggi contribuisce per avere già un gioco che funzioni quindi ha bisogno di metri esatto e posso aggiungerti una cosa Samu che questo secondo me è anche molto importante e bisogna sapere comunicare con i publisher quindi vedo molte volte dei pitch deck di 30.000 pagine o di 30.000 screenshot e video non hanno tempo i publisher per vedere queste cose cercate di essere coincisi avete 3 minuti per fare un video un deck veramente che spacca e quindi investite del tempo nel migliorare il modo in cui comunicate e siate coincisi questo è molto importante non mandate mail più o metriche ho visto anche pitch di gente che dice se facciamo così facciamo questi numeri sono cazzate perché anche un po' nel mondo dello start up oggi un po' il business plan non si usa più un cazzo perché comunque diciamo che c'è una prevedibilità molto bassa dipende molto da tantissimi fattori quindi comunque andate subito sul anche qui quando volete fare gli sviluppatori di videogiochi molte volte cosa succede ho visto ragazzi che si sono concentrati nello sviluppare i loro videogiochi però erano diciamo purtroppo magari zero nel comunicare nel fare del marketing web nel testare i propri videogiochi come abbiamo visto in passato con alcuni video che ho fatto con Sirotrack con lui che si è occupato di Asono tutto quello che riguarda la ottimizzazione dei videogiochi e se ve lo ricordate abbiamo fatto anche un'intervista con lui e iniziare a capire le metriche studiare le metriche analizzarle migliorare i propri videogiochi le metriche sono molto importanti perché i numeri sono poi quelli che interessano se io con 100 euro di adb faccio mille persone che giocano che poi giocano che ne so un minuto so benissimo che magari se investo mille posso raggiungere questi risultati poi dipende da tantissimi fattori il target il paese ci sono tante cose però oggi lo sviluppatore che vuole creare la sua realtà come quando facevo video su youtube io non guardavo solo il video cercavo di come lavorare sulla copertina sul titolo analizzavo i dati vedevo quali video interessavano di più la stessa cosa e nei videogiochi sicuramente quindi Rick super felice di questa chiacchierata vogliamo aggiungere qualcos'altro o crediamo di aver già trattato un po' di roba no voglio aggiungere una cosa e la cosa è credete in voi stessi perché ho visto veramente tantissime persone che che ce l'hanno fatta e che adesso stanno vivendo il loro sogno nelle piscine svariate di tutto il mondo e no sì questo ce la si può fare noi non facciamo ancora parte di quelli che sono in piscina no non sono ancora in piscina noi ancora no ma tante persone sì e quindi quindi sì credete nei vostri sogni questa è la cosa più importante perché le possibilità ci sono e basta saperle sfruttare quindi quindi se avete questa passione buttatecivi dentro e non non ve ne pentirete e poi quello che dico sempre iniziate a fare giochi di merda perché dai giochi di merda si inizia nel senso che molte volte vogliono fare il gioco incredibile ma anche io sono partito così non che io sia arrivato da qualche parte però è normale fare giochi che non siano bellissimi all'inizio quindi che siate più grandi o più piccoli iniziate a fare i giochi vedetelo come una crescita e piano piano sì mettetele mettetele nello store mettetele nello store non tenetevi per voi e per i vostri cinque amici mettetele nello store vedete cosa vi dicono le persone reali e quello è il modo migliore per qualunque start up quindi avere uno studio videogiochi è come avere una start up ormai sono termini equivalenti uguale uguale Rick io ti ringrazio tantissimo io faccio subito un piccolo recap dicendo che in descrizione trovate tutte le info per contattare Riccardo per avere maggiori informazioni su One in generale vi lascio dei link che vi permettono di essere un po' flessibili ovviamente potete anche lasciare dei commenti qui sotto per avere delle risposte pubbliche sia mia che da parte di Riccardo però ecco vi consiglio di contattarlo in privato sia su LinkedIn e così via tutti questi strumenti che magari voi non conoscete come LinkedIn se siano proprio più piccoli iniziate semplicemente a conoscere magari non a utilizzare a capire come funzionano a capire che tipologie di persone si possono trovare lì dentro perché sono strumenti che oggi possono essere utilizzati per avere ovviamente dei risultati positivi in quello che stiamo facendo Ricc ti ringrazio davvero ciao ciao ragazzi ciao ciao ciao